TORORO TORORO TOTOTO Ok quindi poso tutto L'unica cosa allora fammi vedere il tuo identificativo Ah no è l'ultima parte mi serve solo tanto il resto Anche penso che sia quella mod per forza perché sennò non ha senso Ah aspetta ma quindi devo aprire pure tutte le casse Ah no vabbè lascio la chiave Eh c'erano le chiavi se le lasci Eh che brutto Due miele vai Vai quando vuoi Aspetta io fa la foto a livelli Eh si sennò non da riguardo a niente Da addosso ho cercato un attimo il tuo profilo Trovato il tuo profilo C'è pure il 13 livelli addosso Fai la foto che ti serve e manna me la Così si è venuta Ma ti giuro ogni server che vado ma sta sempre pioendo ma possibile mai C'è possibile mai che ogni server che entro piove Piove su bagnato come si dice Piove su l'accappone Nooo Carlo no dai Carlo no Ste cose non si dicono Ma da cazzo si guarda l'inglese Che vuoi? Shut up Putin stop war stop war Putin È sembrato il russo nel promesso No è un coreano che dice Stop war stop war Putin stop war Sto aspettando che sto pagliaccio mi dice che posso cancellare i dati Si ci sono ma Eh esce Ah è mo' la già ricarica perchè l'ha aggiornata Che tutti c'hanno la perfetta cosa Ah ma è ci si spavino Allora download 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 Ok Delete Entra nel server Vai da Carlo e vedi se lo fai crescere Carlo devi fare da beta testi Bello sta facendo difesa a forza Bellissimo il tuo personaggio Paladino puro Ah È un paladino puro Il tuo personaggio Non so le armi Ok guarda Guarda il video E' un mannato su Passiamo a fare un video Guarda Lore Ehi Putin Stop Ecco chi fa Putin ON Ehi Putin stop Hey Putin stop Ma che sto facendo qui Ehi Putin stop Non capisco A fianco c'è il sasio di Putin Quello là è un trend Che fanno vedere tipo La mascella Allora ha senso quello che ho visto Sei dentro al server? Sì E non c'è cazzo Ma vai vicino a uno E c'è solo stella E fatta crashare C'è questo cazzo Crashare la stella Crashi? Ok aspetta addio Non crashi No non crashi Ma come mamma fa? Esci da assieme Ehi Putin Sei uscito no? Ehi Putin Stop Ehi Putin Stop 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 Cosa? Stop Ma aspetta un attimo No Ok Grazie Sono venuto in questo momento E vi dovete consigliare voi Perché stanno tutti live Entra Panzer E vai da Ehi Putin Stop Ma sei sicuro che mi dirà la roba? Intanto Ehi Putin Stop Allora facciamo che se funziona Putin ferma la guerra Se non funziona continua Dai poi se facciamo E' che colpa mia se non carica Che colpa mia Ehi Putin Ehi Putin Stop Putin Ehi Putin Deve iniziare così da live Sto in live Stop Ma sei già in live Sì Sto sentendo Ciao a tutti Ah no funziona Aspetta Funziona E devo andare a vedere se è crash Ok devi solo vedere se è crash Ti prego dimmi di no Crash Abbiamo trovato la tecnica per non crashare Aspetta la vedo ferma E no a me non risulta nella console che è crashata Crash È crashata No non è crashata Si è crashata Ok se È crashata Si Ok Allora Aspetta Putin Stop Quindi è crashata a stella Si Ma c'era solo lei nel server Si Ciao signorina Come va? Ah ma la dentro Ne serve già Oh È un pezzo che ho Oh bello Mica ha visto ora Ciao a stella Sei che è crashata Si Quella che ha acquittato per andare su Siri Sei non l'hai detto Non l'hai detto Allora stella sei crashata o hai acquittato tu? Sei crashata Ha detto si Quindi pensa che sia crashata Come? Si Io in chat non leggo niente Ha scritto crashata Ah ok si Vabbè vabbè E mo' come facciamo? Eeeh Vorrei capire se c'è una possibilità di evitare di fare sto bordello Va bene questa cosa fra Non va per niente bene Eh no Ok non è una cosa che fa costantemente però Esci un attimo Ah la fa una volta ogni 2-3 ore No un po' di più Sei uscito? Si Ah ok Questa mi può mangiare Entra adesso E manerà una cavia No entra adesso e dimmi cosa ti ho cancellato Figata Ma niente C'è un attimo di una cosa Dani Si anche capire perché dove c'è casa si lagga best Ma infatti io non sto venendo più lì per un motivo Dove lagga troppo Quando c'è qualcosa c'è una bomba sotto Che cazzo ne so che avete messo sotto Ah no ok si può fare Sei dentro? No sto caricando C'è un metro fliston Oh quant'è genere che devi pagare le tasse qua? Util Stop Mi hai tolto un bel cazzo di niente Mi hai tolto Cioè di quello importante non mi hai tolto niente Io ho tolto un file di te E adesso Eh ma se no non ho la cavia I cuori li ho L'esperienza l'ho Quello mi interessa Allora ho cancellato un file E ora bisogna che qualcuno entra e si avvicina a te Io ti ho cancellato Cos armor Non so cosa sia Cos armor E non ti cancella niente Cos armor Forse è cosmetic armor Dice? Sì non penso C'entri qualcosa con il crash Sicuro che Allora chi entra prende Tre monete d'oro Dai Chi entra prende tre monete d'oro Ragazzi L'ha detto Dai Valeria Entro io Ci capite Diciamo Oh ma fai fai Osiris Tu ero un brocazzo Ma un po' ti devo fare Tra tre E che è colpa mia Se Carlo è venuto vicino a me prima Che devo fare Oh dio E le coppa di nave Chi è che c'è? Alexander Alec Alexander Chewbacca Poi Vintage Vintage Wolverine Stella Cos'è Moonlight Mapmarker È una mod Del server Ma non è una mod Proprio Come ti posso spiegare Se ne rompere i coglioni Cazzo Ma in chi è? Dai Sono tre Sei Nove Tre Sei Nove Buttami i soldi addosso Non te lo sai Quanto devi Cance Hai capito Ok Favamo avvio il gioco Che chissà Strunz Dice che mi manca Per entrare Come sia possibile Me lo devi spiegare tu Che Non ho toccato niente Ne ho aggiornato niente Ma tutto cazzo Questi problemi Chissà da Crash sei Chissà da Gesù Tu dici Cos'Armor Comunque è quella Da Cosmetic Eh Non so Proprio di sì Quando è quello Più in utile Non posso aprire Sti file Con qualcosa Che spazio Ma non sta scritta in Operano o laggo Eh? Non laggo Sto volando Per tutta la città Ragazzi o cazzo Stai solo tu Ma l'hai aggiunto Oppure no? Ma è una mod Che è stata aggiunta Dieci anni fa È stata aggiunta Hai bevuto pure la birra Tu Con quella mod Non è che l'ho aggiunta Già c'era la mod E in più tu c'hai il pacchetto Quindi Tu l'hai scaricato Tramite link Non è che l'hai aggiornata Per sbaglio Vedi se l'hai aggiornata Ma ho aperto Dei giovedrano devo fare pipiii ah cazzo è un pio di coglioni ti rompono devo panzer mi è nemmo dubbio ti resetto e aman ma mi devi ridare tutto non è che mi resetti e giocado siris no quando e dopo te lo faccio vedo un attimo solo per vedere se ti fa crashare ma come questo è un altro tuntime server accantini questa Che cazzo c'è? Io sono in live e devo fare il contenuto Non so, per te, perché tu vuoi Io ora quitto Io ora quitto Non te l'hai il quitto, perché prima muore se funziona Perché può essere proprio che la cosmetic Che ne sappiamo, può essere tutto Magari questa è la cosmetic Non la butto Eh, però non fai la volta Eh, però non fai la alla volta Gli altri non ha senso, perché se levo gli altri Te levo tutto Ma cosa fai? A me deve essere ostile Ma non sto parlando, non te, sto parlando di un panzer Questo è un altro scemo che dice Sono ostile, ma all'improvviso Ostile, adesso è un nemico È un esercizio francese Sì, il frigo Nadie sta preparando la casa Frigo, mobile È il cammino forse è più complesso Ah no, allora il tavolo è già qua Ma quanto ci metti ad entrare? Eh, che vuole, mi sta caricando Quindi Posso provare a spostare il letto nell'ultimo piano e a fare qui la cucina Perché la cucina è l'ultimo piano della casa Non so se l'erano la casa Devo fare tanta pipì puro Vabbè appena metto multiplayer entro, vado un attimo a fare pipì e vediamo l'esito Tanto Faccio prima la pipì che è di entrare No, non riesco E vale, ora sta entrando E il problema è che hai incasinato anche con gli altri server Non è che sono incasinato con gli altri server Che non mi pare normale Perché la roba si droppa più facilmente Perché nell'altro server ci mette mezz'ora a droppare la roba? Quell'altro server lag Sì, quando ci spostiamo il noi fuori da villaggio Infatti è come Osiris Ma è bellissimo giocare sui film per l'anno Bello, bello Oh, fra io entro Metto la console intanto che ho cliccato Sì, allora, chi ce l'ha? Ok, no, ok, ti passo Vado un attimo a fare l'app Tu dici perché ho chiesto Tu c'è l'armatico, forse Non so, così c'è l'armatico Sì, accanto ci può stare Poi i comodini li posso mettere anche vicino alle casse Ecco, i comodini, perfetto Era vuota Ok, dice che sono entrato nel server Aspettiamo il caricamento Ma perché c'è un quadrato di lato? Non ti avvicinare subito, aspetta Eh, lo so, ma perché c'è un quadrato affianco al mirino? Come faccio? Che combinato? Ho cliccato Ho cliccato Sono reso, ma lui dice cose a me Ah, guarda che barro Ma come faccio? Eh, ma sto morendo Ah, ma il cammino? In che sento sta morendo? Ok, ok Quanti sensi esistono che sto morendo? Aspetta, mi è stato disconnetto un attimo da Osiris Ci mette troppo Vabbè, sono morto Oddio, sto volando da morto Dice, infatti nel server, play il revive Sei morto congelato Vado ora, dove spawni? Aspetta Ma che cazzo? Ok, allora niente, niente E' fianco a casa Quindi sei nella mia vicinanza? Io dove sono adesso sulla moppa? Fuori dal gioco Sempre la stessa ruota Quando abbiamo già un casino di casa, lì sono Non so molto se cazzo Sei grasciato quindi? Sì Come si chiamava quella modda? Quella che hai tolto? Per cui? Per cui? Vediamo se è questa la modda Aspetta Ma mi ha tolto due cuori Perché mi ha tolto Ah no, no No, come si chiama? Di quel formato di nuovo Ah, e chi chi fa la terra costa? La cartiera, vale Ora bene Madonna Madonna, 39 gradi Oh, che cazzo Io ho pure sbagliato un film Ora mi sono accorto Oddio mio Ah Panzer Non penso Bisogna andare a buttarsi in acqua Aspetta Buttiamoci nel fiume Ci rimpresca Vabbè No, cazzo Ho perso tutte le monete Vale Credo Non ce l'avessi resettato Di me Credo Non c'è bisogno di resettare È proprio la versione Che non va bene Penelna stanno dicendo Di usare una versione precedente Capito? Prima della 3.7.7 Di usare Prima della 3.7.7 Sì E mo? E mo Faccio una cosa Esci dal gioco? Aspetta Fammi posare tutti i soldi Ok Allora Aspetta Fammi spegnere il server Devo spegnere il server Mods Fammi trovare sta mod Perché uno ha detto Di scaricarla Ma non di aggiornarla Di usare le versioni precedenti Non quelle nuove Noi stiamo usando la 3.7.11 E loro hanno detto Dalla 3.7.7 Di non usarla proprio Anche dal link che ti ho inviato Lo diceva Se no mi sbaglio Se no mi sbaglio Fammi vedere Questo tipo diceva Proprio in una parte Di quello che diceva Ah removing this mod Vedi? 3.7.7 Tutto e più Capito? Per questo crashava Aspetta Vediamo se funziona Raga scusate Lo so che Osiris Però un attimo Se riusciamo a risolvere Adesso proviamo a risolvere Sotto tutti i problemi Della storia umana Putin Sta pure Ma ti giuro solo Che succedono queste cose Maricardio Cioè tutto Alla fine Non era Né tu a Light Non ero nemmeno io Praticamente Esatto Cioè praticamente Immagino tutto Cazzo senza niente Vai nel pacchetto mod E installa la 3.7.6 Capito? Niente No Vai nel Cruise Forge Digi of Dragons Vai in Nella mod Quella là Ok clicca la mod E installa la La patch 3.7.6 No aspetta Ti condivido un altro Fammi la mod Ma non ti sai spiegare Sei rompendo cazzo Tu e tu sei Vassi Muro Chiuso Fammi la Eh Che devo fare Vai nella mod Schipi P.E P.E La seconda Clicca Nel nome di Cristo Version Version 3.7.6 Sì Installa questa Per favore Ok Start o server Start o minecraft A me Ma quindi Ma basta che lo avvio Si è già cambiata Diciamo L'hai cambiato tu no Si è installata nel server Sì Ok lascia quello Avvia un attimo Gentilmente Puoi chiudere la live Se no ci metti 10 anni a carica Che c'è qua Ma chi è quella Gentilizzata Ma la matura Ma no Mi è fatto un co Fai Il server non funziona più Vamos Finalmente Si serve di merda Speriamo che risolva Sta cosa E speriamo che era Quello che magari faceva La gatti Magari faceva Magari In nome di Cristo Vabbè Magari si Fosse quella Cioè tu immagini hai detto Tu hai la Vabbè comunque Mi avevano consigliato Comunque di toglierla Un sacco di persone Anche visto Ho detto Non metterla Che va in contrazione Vabbè Quindi c'ho ancora Tutti i cuori e tutto Si Tecnicamente si Se funziona Però ho perso Due cuori Per colpa tua Cazzo Magari che la Cazzo Non metto Un pochino a me Voi seguo Andiamo Andiamo Intanto vediamo se funziona Ok Io sto entrando Ma tu sei dentro No Sono in Tuttografia In corso Io Vado su Multiplayer Ma tu sei vicino A me Sì Sto a casa mia Praticante Aspetta un attimo Fammi caricare Poi provo Ok Se no Magari crash Vabbè Posso iniziare A entrare nel server Tanto Sei più veloce Di meno Ah figura Tengo Live Che la tua Verrà aperta Inizia ad entrare Ok Anzi Hai già crash Crash So Spero che sia questo Il problema Nel nome di Cristo Sei dentro tu? Sei dentro Sono in questo Nel mondo Eppure io Finché non muovo Eccetera Non ci avviciniamo Non lo sappiamo Non so manco Dove sei tu Tu eri pure Casa mia No Casa mia Casa tua Ok Per ora C'è ingresso nel mondo Caricamento del terreno Ok Si è chiuso Porco Dio Sei crashata Ma pure tu l'hai aggiustata No la mod Si Come no E dove la possiamo trovare Può essere pure che Magari Era quello il problema L'ha aggiustato Ma tu sei rimasto Buggato Vabbè fra Esci un attimo Ti resetta Lascia stare Tronga tutto Quello che dave E la mano Non ci rompe Me palle Abbiamo cambiato la versione Vediamo con la versione nuova Se funziona Se funziona bene Se non funziona Vaffanculo Caggiarice Giusto giù cazzo Qual era molto cazzo di codice Ad9 impara Che pazienza che ci vuole Nel nome di Cristo Poi sembra che si risolve Adesso che clicchiamo Capi E mo tu sei rimasto Con Con che cazzo di punti Lì Si Ah di no Vaffanculo Avevo subito trovato Vai Tras È stato resettato Proviamo a usare comunque La versione che hanno detto loro Non so se dobbiamo tornare più indietro Ma non penso Non credo che ci sia bisogno Mi preoccupa le pori Mi preoccupa le pori Eh Grigio Cioè deve sembrare moderno tipo addominio però non è addominio no, ci sono un attimo solo perché non si vedono più i nomi? ecco, ecco, ecco è bella, bella però vai che gli sconti ma scusate io ho già cambiato la skin allora stavo a fronte allo stesso momento ho scoperto che avevo caricato un altro mod che non funziona, quindi ho aggiornato quell'altro mod che per me è il combattimento mi ha caricato un momento e poi ha funzionato stavo a loro che non funziona quindi ho aggiornato quell'altro mod che per combattimento poi ho caricato un momento e non è che ha funzionato quindi può essere che dà l'errore perché dà l'incompatibilità con per cui è Better Combat, capito? questo dice così che lui ha installato prima Better Combat la migliore installazione quella più aggiornata ma noi già l'abbiamo quella più aggiornata nel servero si sono da problemi comunque ti ho resettato speriamo che sia così non succede più può essere magari così si risolve il problema è che adesso se gli parlo mi manda a quel paese quindi aspetta lascia il pulsato al cattivo Vale il lavoro quello lì al comune da pulizio credo che cosa è disponibile che? al suo signor al comune cioè ricerchiamo pulizio c'è un lavoro da pulizio deve parlare con il signor Benny Poliziotto ok bisogna parlare con Ben il Poliziotto Ben il Carlo il vero Messia lì il capo Poliziotto no si chiama su 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 Minecraft proprio Carlo Messia oh sicuramente non sono crashato perché sei vicino a me e ti vedo ciao Fatina guerra guerra allora experience ad Panzer Panzer ma ma io starei lontano calmi intanto livella come nell'immagine per favore un po' stronz mettiti quello che è nell'immagine calmi mi vuoi appena finito ti reset tutto e ti rimetto i 13 livelli che avevi rimetti un'altra esperienza e non posso si ferma l'esperienza non puoi no l'esperienza la barra sotto che si deve caricare sta facendo tutta la rete a mezzo stella guarda ancora ancora non mi basta ora dovrebbero bastarti per forza ok ho fatto che posso settarti l'esperienza il fatto del cibo lo facciamo stasera certo ma sì per favore perché sto perdendo solo tempo è via però sta roba qua non mi serve ti ho messo aspetta dove è? aspetta ok aspetta vado un attimo da l'est ma cibi nel senso ma perché quanti cuori per prendere i cuori eh frate guarda quanti ne avevo guarda la foto stella vai ancora ancora devo avere almeno l'inventario pieno per tutti i mili che ho mangiato no questa non vale mamma poi se mi mancano stasera lo facciamo ma apposta abbiamo fatto speriamo ma lo vedi più liscio non bastano lo vedi più liscio il gioco rispetto a prima sì porca puttana frate secondo me era quella moda allora semplicemente era ancora buggato tu e non funzionava io qua faccio 40 fps al centro ma va liscissimo mai visto così mi vuoi colpire un po' un attimo per favore prima che te ne vai aspetta prendimi in braccio vediamo per sfizio perché io laggavo quando prendevi in braccio no fra va liscissimo ok ma ora che stai correndo un altro discorso ma riesco a muovere la testa ma vabbè ovvio quando quando è dopo stasera non mi riesci giusto a colpire un po' prima che stacchi mi dai una o due spadate la rostana e dove stanati spero so volare anche guardo imparato guardo imparato ma vuole chiedere anche ci può colpire per favore un altro un altro aspetta faccio 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 la faccio vabbè dai mi disconnecto per dai dai davvero ti è la pomodora ma ti è la zuppa pa mi è vabbè Perché penso Wolverine scuole trafitto da Giampizza con anti-arabi Nella senza che gabbitonate Comunque io lo vedo più liscio il gioco Sì, si è più liscio Speriamo che sia veramente questo il problema Ti giuro, lo spero nel tutto il cuore del mondo Lo spero veramente con tutto il cuore del mondo che abbiamo lì sotto Comunque... Vedi che nessuno può entrare adesso Sarebbe meglio se lo spengo proprio fra il server A sto punto, allora apriamo... Ehm, sì, fammi finire di mangiare lo spengo Sì, io, per me questa zona è come... Abbiamo inzo la pancia Abbiamo, è c'è troppo grande, l'invento Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è poi crasho, giusto? Vabbè lo faccio stasera allora, vai dai vai. Vabbè ci sentiamo più tardi allora. Ciao. Vabbè. 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 Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì. Allora, contrario, signorino. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Allora c'è una cosa carina qua. Tipo le mie tasse. Come se sale? Allora. Come se sale adesso? Perché non mi piace. Allora, signorina, la posso chiedere un piccolo favore? Sendo Modifichiamo questa cosa Potrebbe fare La paghiamo pure aggiuntivo questa cosa Vorrei la scala qui che mi porta sopra Non voglio più quelle scale perché non mi piace Ah quella con le ladder Grazie a me Ho il legno addosso se vuole Ok va bene Un po' di miglioria in questa casa Cioè mi non piace Volevo salire sopra Ma Uso la magia Devo usare i nostri soldi La 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 Un attimo aspetta Si signora salga fino all'ultimo piano Ah no ma c'è un problema Cosa? Che è Qua se la devo salire fino all'ultimo piano Cioè è un problema parlo così Perché? Che succede? Perché devo smontarle Cioè il muro Pian piano si restringe Più sali Capito? E poi se la mettiamo attaccata non va bene Allora facciamolo in un punto dove non dà fastidio Il problema Cioè si dovrebbe fare staccato Tipo Potremmo farlo ad esempio qua Ok perfetto va bene Perché è staccato di un blocco Quindi si può salire su Vabbè lo volevo fare così perché era un po' brutti Ah però qua c'è la cassa Vabbè quello l'ha sposto adesso aspetta Un attimo solo Uso una magia Uso una magia Tecnico style Dov'è il mio cazzo di dolly? Io avevo un dolly qui Ah è nella cassa Era in una cassa Aspetta E ora Aspetta un attimo Prendo subito il dolly Che è tutto sto cibo qua dentro Eh si abbiamo sputtato un po' di roba Ho capito ma non è che Aspetta Dovevo dire tutta la tua storia della vita Aspetta Perché no? Perché adesso risolvo io Tranquilli Vai Vado? Vada vada Ah ok Vediamo perché anche qua potrebbe esserci lo stesso problema E non so cosa c'è C'è il comodino Allora aspettate aspettate Vabbè cambiamo un po' di design Essendo che togliamo questa scala C'è più spazio Se noi adesso togliamo questa no? Esatto Se toglie questa Eh boh Ai Ne parli lei con il tuo marito Ok Aspetta Ok Va bene Serve solo tappare quei puchi con il legno Sì lo devo andare a prendere Tieni il mobiletto ce l'ho io Ah non possiamo il legno della scala No perché sono scale Eh vedi però poi è riempito Eh no sì Quello sì perché con gli blocchi c'era No Allora Intanto vi sei beato da spostare Chi è questa cassa qua? Eh buona Da lì Butta finalmente abbiamo qualcosa Che possiamo buttare tutto Butta butta No 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 Buttare la cassa Ma che cazzo Ti sei messo davanti Mi hai rotto il quadro La mia cringe Che passi davanti Come cazzo si leva questo piccone C'è un piccone No no Qualcuno c'è un piccone Eh io Mi spacchi questa La questa Sì Però poi si rompe No 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 Non si rompe Io la spacco Anche se me la spacchi Io me la droppo Ender Allora Dov'è che devo fare i mobili Più che altro ve la metto Ma questa è la camera da let Quindi Quindi dobbiamo spostare Tutto di un blocco Perché Vabbè c'è il dolly in caso Ce l'hai il dolly no? Dolly? E il dolly è uno strumento Che prende le casse E le vuoi spostare No Non ce l'hai Hai Mi sembra una patata Ah no scusa Ce l'hai Santa moneta Non ce l'hai Mi dà l'alimento Della storia La patata Ok Salve Ciao Come va? Bene Tutto bene Dai tutto bene Mi fa piacere Mi fa anche piacere a me Ah certo Vieni con me Allora Per Stella Non so se vedi in alto a destra La minimap La vedi no? Come si scende? Penso di si che la vede Eccola comunque Stella 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 Ti preferivo quando eri piccina Sì È brutta Hai chiuso il server Eh stiamo facendo una nuova patch A quando eri altri? A mezzanotte Teoricamente dovrebbero approvarlo subito Che bello È mai uscita una nuova patch Quindi devi aggiornare Devi aggiornare la patch Ah signorina Se vuole anche lei Potrebbe piacerti Abbiamo aperto un nuovo server MediaValleyRPC Lei è piccolina così Guarda Come questo Sei nel Discord di Vale giusto? Fagli vedere la foto che c'è nel generale Di quanto sono piccola C'è una foto Una foto? Mhm Che Yadon mi aveva preso in braccio Stai in generali Fagliela vedere Ma vado a trovare il generale qua Eh la prima Non è la prima Stata 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 Non è generale sarebbe no? Sì Ah quello? Ah quello Sono confuso Da quello che state dicendo Guarda Guarda nel tuo disco Oddio Guarda la foto che l'ho fatto io Ah quella che ti ha preso in braccio Sì Ecco così Vi faccio capire Quanto è piccola la fata Ma già l'ho visto in live Questa cosa Ma tu Tutto apposta Quanto è? Non sei venuto più Stiamo facciando un casino Eh ma laggava zio Ma laggava un botto Pure di linea Non si capiva niente Ti giuro Basta abbassare un po' la grafica Ah Vani È passata infatti Ho trovato un bad nuovo No comunque tu sei entrato all'inizio C'era un problema all'inizio Ho trovato un bad nuovo Non si può fare l'enzuolo bianco Più Se baggare Eh vabbè ma quello è È la moda Deve aspettare che fanno l'app credit Guarda Guarda cosa ho comprato Fammi vedere Ovviamente con il permesso Come che ripeto Sei più carina da piccolina Perché ti posso Ovviamente con il permesso di giampizza Guarda Ho preso la mia pacchetta Ah Ah sì Con la rosa Io la posso ridare Sì è una cog Non può guidare No è un marinaio Però è che sì Ovviamente che si è permesso Di attaccarla qui Vabbè mica la devi chiedere Il portino è Delle stelle pescola L'ho chiesto al proprietario Le piace Fioria la mia pacchetta Ma in realtà è illegale Questo porto Non facciamo niente Perché solo perché Da sotto banco Dei soldi Eh io ho chiesto a Giampizza Se il portino Non lo sapevo Eh no no Giusto Lo dico perché Tanto per Com'è bello vedere I 60 frame Se no Prendo un pezzo di terra E ci faccio il porto mio Ma cosa ne pensi Di vedere i 60 frame Qui Cosa Cosa ne pensi Che qui vediamo I 60 frame Che bello Sendo che di là Io largo davanti casa Sa cosa Si dovrà capire Eh abbiamo fatto la patch nuova Potrebbe non laggare Un laggare di meno Perché c'era una mod Signorina Fiore Facciamo le wins Dirà Io sono grande Io ho fatto capire Quanto è grande la fata Ho questa skin E lancia anche le magie Sta stronza addosso E non la riesce a coprire Perché vuole Sì io ho il libro Incantato Io si Occuro E attacco E faccio la fuoca Io Vado a fare Il dovere da doge Mi sto riprendendo Piano piano No abbiamo forse Trovato la moto Che faceva laggare Ma chi si è Troppo carino Questa cosa Ma oggi Era l'ultima giorno Ma che qua E parte Perché si nero Perché sono nero Perché sto moreno di caldo C'è l'armatura Ma il cazzo Eh visto Lo sto facendo E fare a me Beh bene questa E poi ne voglio una Tutta nera Come il doge Però non quella del doge Non mi piace Che stai dicendo La massimiliano va bene Ma tu costa la mofa Da fil kinder culo Sì È tipo questa ma nera Ah Va bene Ah Signor Dan Abbiamo fatto una nuova patch 1.4 di The Age of Dragons Ricordi che crashavamo Perché Che bello Festeggio picchiando lui No eh Non si lagga 60 frame Li vedo 60 frame Eh Vabbè Vabbè Faccio così Poi Ma che va a caldo Basta Ah no Come trovo nel doge Prodo Ah Ma sei tu Ti ricordi di quel crash Che faceva quando uno si avvicinava Praticamente abbiamo scoperto Che la mod di origin Un addon di origin Quello là che ti cambia le misure Le attrezze E hanno detto di non installare La 3.7 in su Di non installarle Per nessuna ragione E ma E quindi Devo rifarmi tutto il personaggio di nuovo No Eh lo so No Ma perché se no L'obbligavo a mettermi le crash Perché io i livelli Non me li rifacevo C'era proprio un obbligo Oh sì Grazie Ma sai E' quella lava di merda Fagli la Togli la lava Ma non è la lava Siamo a 37 gradi qui Porca puttana Sì ma Se tu fai conto Qui non so Qui non rischi di morire Ma poi non è che devo Tornargli la roba Sempre stesso Sì ma non è che si mette a togliere la lava Perché è stata Allontanati Sì Oh Guarda per caputana Oh minchia Manco entri 50 gradi Assicurati E' quella scaldata Ma poi metto sull'armatura Ti spiega di crepare di caldo Io direi assolutamente di controllare Parlare con il signor Dintouch Di picchiare Dintouch Come cazzo si apre la mappa qui Ma dov'è il Dintouch? Ma poi ho detto Mi devi pagare due sessioni Che ti devo pagare? Lo scuso sessione non mi ha pagato venerdì Ma te che? Da balinaio E' so cazzi tua Tu dimentici come fosse il mio problema Ah no non scappa Ah no ero mutato Ho detto E' so cazzi tua Cioè Senti di dimentica E' lo pensate voi Che non me l'avete dato Io rompio voi le falle Voi non me l'avete dato Ah mo Ma è sì che te l'abbiamo dato poi C'era nella lista di pagare Vabbè andiamo Hai i tassi pagate? Eh scusami Mi vedi un po' culo mi vedi Aspetta un attimo Ok Te l'ha pagato? Alexander ci ho beccato Tu non hai pagato i tassi Ma io non le devo pagare a lei Ma come la devi pagare? Lo vedi? Tu prendi 60 di stipendio Togliamo le tasse del negozio No non ti tagli le tasse 12 C'hai la casa tu? No Solo il negozio Io c'ho solo il negozio Allora che cazzo rompio Ti devi dare tutto quanto lo pieno Ma io non ti dite niente Andiamo a pagare le tasse Ma al nome del signor barone Lui mi ha detto di prendere tutte le tasse Ma non è vero Ho parlato oggi col barone Non ha detto Non ha detto Sì è certo E parlava così Te l'abbè andato Non abbiamo parlato Ma se non hai detto Tre settimane fa Tra poco Allora quando verrà il barone Ti do le 12 monete indietro Lo dà a lui Perché il game rule Me lo so portato per lavare Io solo le tasse Infatti così quasi Vediamo domani Dopodomani ci vado Gli consegno tutte le cose E gli dico che mercoledì non ci vado Anche perché Vado tra poco si deve operare Quindi io so Da fare Non è che può Compermiare No infatti non può Devo stare a casa Io in più devo stare a casa Perché lo devo aiutare Se non si può muovere Come fa In due Sì sì Tra poco No no Per questo Ti ho detto A me conviene stare Stai attando Uno o due giorni Per aiutarmi Sì che non si rimette Vabbè Non penso alla operazione Sennò ti ho avuto gli incubi L'importante è che abbiamo risolto tutte e due Sennò ti ho avuto gli incubi Non è che cosa Non è che cosa No Il lavoro Perfino Non mi piace No No Amo ti aspetto all'attore, sto bacio tuorò, Amo ti aspetto all'attore, sto bacio tuorò. Io me ne ho preso solo tre perché avevo... Solo ieri c'era lei, nella vita mia, solo ieri c'era un sol... Doge? Mi dica. Posso fare il lavoro, se io, con tesoria. Ah, ok, pagate. Pagate le tasse. Sì, sì, sono pagate. Dieci monete. Addia, signore, dietro di te biondo. A terra. Signore biondo, sono qui i soldi, se volevi fare tu. Ai. Io... Dina, e te? Sei soldi? Vabbè, prendo i soldi, vedo che c'è qualche problema. Vedo che il tesoriere è un po' difficile. Quanto è stella, stella? Due giorni? Allora, ci sono. Mi diamo un po' di stella. Devo pagare e mi dare il stipendio. Stella e Alexander sono qui, hanno pagato. Hanno pagato? E anche il tuo stipendio? Dovano pagare ancora. Devo pagare ancora. Stipendio, stella. Ben, fatto. No, infatti non è che glielo devi dire. A posto. Sono arrivato per togare le tasse. È arrivata la morte. Eh, ecco le tasse. Oddio. Doge ci sta pensando lei? Eh, ti sto solo scrivendo sui quadernetti. Fatti dai, tu prendi i soldi, sposta i soldi, eccetera. E fai, stella non ha ricevuto niente. Come non ha ricevuto niente? Ma dove cazzo è andata? Eh, lei chi è, scusi? Sono... Wolverine, devi pagare 80. Dagli 80, dai, non prendere tempo. Questo si mette a prendere tempo, questo mezzo. Non abbiamo foro un cazzo. Ah, te lo dà. Stella, scusi, stipendi, soldi, che fai? Te ne vai così? No, no, no. Mi sembra che si è sparati dalle tasse. L'ha preso Stella. Mi scusi. Stella, hai rubato i soldi del tipo di etroide. No, no, guarda che... Guarda che c'è i miei. Aspetta, quanti erano? 80. 80. 20. Dai, devo andare a prendere altro. Ah, perché se avevo 8 monete, se no... Ok, Stella prende 60 di stipendio. 25, l'attività 25, l'attività 50. Più la casa 60. Ok, sì, ha ragione, puoi andare, puoi andare. Lei tutto lo stipendio usa per la proprietà, eccetera. Ha ragione. Posso andare, quindi? Aspetta, ora sì. Ok, grazie. A riederci. Ciao, necromani. Allora, necromani, senti un attimo. Eh, sì. Che c'è? È sporcato qui. Cioè, io dicono, quando cammini? Con i piedi. Eh, scusa! Eh, cosa? Sporchi, il pavimento è bianco. Comunque, no, 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 scusa. Dovresti comprare le mie navi. Che devo comprare? Le mie navi? Dai, vai a comprare. Che le compro fanno? Abbiamo 7.000 noi. Ma no, vai la comprare. Ma vai la comprare adesso a stella? Comprano un'altra, dai. Fa mai male. Ma tu sei sciogliato? Ti serve. Eh, no, ma per fare affari, capito? Cioè... Ma, più che affari... Guarda oggi, io non... Non è vero, io sia andato a stella. Ah, non c'ho... E tu le vuole... Ha già pagato? Tu le vuole le mie navi? Io? Sì. Quante costano? Una stacca. Mi ha salvato dentro. Fescheria! Fescheria? A me. Salve. Le tasse le hanno quasi pagate tutti. Siamo... Mi dica. Io vado così, perché... Ah, per fare i coloranti. Vabbè, ci sta. Eh, vado dove mi costa di meno, no? Ciao, uomo. Vabbè. Ma secondo te è meglio uno pacche di ustello o ustello di... Tutto a cazzo. No. Pacche di ustello, pacche di ustello, pacche di ustello. No, pacche di ustello. Cosa sta succedendo? Oh, hai visto la casa mia, signor Simon? Nicolas, ti piace la casa mia? Nicolas. Simon. Senti, lei ha troppi nomi, in troppi server. Eh, lei è scemo, perché ha detto bene il mio nome e me l'ha cambiato. L'ha cambiato di proposito, infatti, no? Clown. Oh, ma hai visto questa cosa qua che è proprio la campata? Che? Ti piace la mia cucina? Dove? Guarda, lei è il fondo. Eh, lo so, sono io quella. Qua facciamo i computer da gaming. Non so cosa siano i computer. Ho detto una cosa a prendere. Come vado qua dentro, Tania? Qualcuno mi ha aperto lì, mannaggia la puttana. Come chiudo quello adesso? Ok, grazie. Cosa state facendo? Non vi picchiate. No, è lui che usa la violenza, non scena. Cosa vuoi? Allora... E' uno dei miei piatti preferiti in questo server. Si chiama la patata a buttonata. Signor Doge, guardi il suo nuovo camino. E' veramente fantastico. Bello. A meno quel fuoco non fa laggare. Ho usato questi blocchi che penso che siano per dei circuiti molto estetici. Si, è bello. Tu che hai lavorato tanti anni ti dovrebbe mettere almeno 1.200. Io ho cambiato la disposizione invertendo qua il vegano e di là. 1.100 a tutti? 1.100 massimo 1.200 proprio perché prendi lo stipendio di questo. Comunque è bello. Mi piace. Cioè qua è un po' noi due, sono sims. Devo... Allora... Non c'è niente da fare, è divertente. Sempre guerra. E' vero, cioè dobbiamo costruire... Ma stanno costruendo, vieni a vedere. Ti faccio vedere cosa stavano costruendo. Se no, tu non l'hai vista ancora. Oltre al birrificio, ovviamente. Se viene di qua... Io vengo a riparare i buchi di casa sua. Grazie mille. Però lei deve raffermi la moschia. Vieni, mi raccomando. Qua? Vieni, la moschia viene. Ah, è una regina. Non ho mai detto il contrario. Più applicato. Vieni con me, devo accedere una cosa. Guarda cosa stanno costruendo. Oh, ciao. Ok, cerchio sulla montagna. Eh, lo so, dico... Ti spiego come sarà fatto. Almeno si capisce. Cioè, è quello che volevo farti vedere. Tu l'hai detto, non c'è divertimento. Oltre al birrificio, ovviamente. Qua, questo è il circoletto. Questa è la stanza ricreativa. E poi c'è anche un ristorante. Capito? È il ristorante dove noi possiamo mangiare. Penso che il birrificio venda la birra qui direttamente. Sai che è perfezione. Secondo me non è per niente male. Vabbè. Eh. Il birrificio è chiuso oggi, mi sembra. Eh, spiegiamo... Eh, beh, è stato potremmo fare anche le birra, perché mi aveva spiegato il signore, però... Vabbè, ma oggi... Siamo sobri. No, il lavoro era bello, però... Cosa? Puoi passare il prezzo dei suoi mercati, no? No. Eh, ma scusa, io li vendo sempre una volta. Cioè, non è che li avrò per sempre. Eh, lo so, ma io a voi li devo comprare, è tipo 27, questo è stato proprio... 25.66, ma è tipo 300 unità. Eh, che sarà mai, mamma mia. Sempre a lamentarti. Manco fossi povero, dai. Sappiamo... Non so povero, è diverso. Adesso avrò le targhette, quindi. Vabbè, vado un attimo a prendere. Vabbè, vado in giro con le chiavi del comune a presto. No, io sono stupido proprio. Io sono comprati 9. Come 9? No, ma non ne volevo prendere. Sono ricco. Comunque, vabbè... Io ora chiuso... Praticamente tutti i soldi delle... Hai fatto più soldi tu per quello che ti ho venduto. Con le casse di ferro qua, che ho dovuto fare l'upgrade, tutte le casse. Ti faccio sapere, perché domani in teoria dovremo andare a fare l'upgrade. Sì, è che prima o anche tu, magari qualche ora prima, che intanto mi faccia trovare dove c'è il supermercato, vabbè, poi mi fa questa rinzia. Buona la patata! Eh, scusami. Non è la mia intenzione. Ok. Sembrava rioffensivo. Non pensavo che fosse qui. Vabbè, tranquillo. Vabbè, domani o martedì, quando tu vuoi. Eh. Dobbiamo andare lì al lavoro, che mi devo prendere le scarpe nell'armadietta e gli devo consegnare la chiave e la tessera. Ah, ok. Ci vuoi andare domani? Boh, quando vai poi? Eh, perché domani tanto dobbiamo uscire per fare la spesa. Vabbè, poi vediamo. Se ci svegliamo troppo tardi, no? Ma che cazzo di macello è successo qui? Comunque niente, ho sistemato... Adesso, guarda quanti soldi ho fatto oggi. Ma che hai fatto? Eh, ho venduto, ho venduto. Poi stanno venendo a posarli la maggior parte. Vabbè. Come cazzo... Ah, abitudine. Il mio cervello diceva che era lì la roba. Eh, comunque non c'è bisogno che compro cibo. Mi scusi, la chiave... Ma anche tu? Eh, c'era... Vabbè, non lo faccio io per questo asset, purtroppo. No, quanto cibo che abbiamo? Vedi che un po' di roba è mia. È la pesce mia che ho pescato. Pesce, 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 pesce! Eh, che la fa? Pesce, 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 pesce! Questa me la rubo io. Cosa? Le patate. No, le mie patate! Tieni, mamma mia. No, no, le ho già 60. Allora, non rompere i coglioni. Hai visto che ne hai 60? Te lo do questa, aspetta. Così, ce la sei piena. Neccio, sento gi... No, se te c'è chiacchiappa. Ok, non ti puoi nascondere con la tua abilità. Ma che bene! Io non so niente. Io non ho fatto niente. Che cosa? Aiuto, aiuto! Eh sì, è bene passato e lo stai insieme. Non mi stai guardando. Ma dov'è ciò bene? Scusi... Ah, bene, bene. Scusa, se non mi faccio troppo da qua. No, no, non vedo un cazzo. Ah, ci sento dietro troppo vicino! È bellissimo, però devo fargliere la striscia a piole, non so se di può fare. Bravo, hai capito di sapere. Che ha potere, vince sempre. Tu l'hai fatta? No, ma teniamo un quadro. Se metto un quadro... A qualcuno. Ma come che vaffanculo? Così, all'improvvisa. Non si brucia il quadro, vero? Ma davolo sacco. No, in teoria non dovrebbe bruciare. Oh, io... Oh, come dovrebbe bruciare. Cosa non dovrebbe bruciare? Scusate. Per favore, bruciate il quadro con giretti. Scusate fermi. Potete bruciarmi... Ma quanta gente ci fanno fare? Ma potete bruciarmi il quadro di Gilberto, di mia moglie, ma non... Cosa fanno? No, 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 serve un quadro. Guarda, padre, sali. Ti faccio... Oh! Guarda, vieni in casa. Guarda il cammino. Il cammino, anche c'è la striscia. Dobbiamo mettere un quadro davanti, perché è bruttissimo così. Che è la striscia? La striscia viola nel mezzo. Allora. Ah. Eh, tu sei... Ti occupi di queste cose, mi chiamo a me. No, eh, ti ho detto che mi serve un quadro. Scegli un quadro, qualsiasi... Va bene, vada, sicura qualsiasi? No. Allora vieni a musea. Andiamo a vedere. Io non mi sento. Ah, io l'altro non è, ok. Andiamo a vedere. Ah, te bello, tu guarda un salato, mamma. Hai? Non riesco a correre, non riesco a correre. Wow, guarda, non è finito. Amore mio. Ehi, sei bello qua. Ma non mi ritieni a doverla a scrivere. Eh, che sei? Un tupescioli? Sì. Museo, vieni a vedere. Allora. Ah, guarda che bello. Non riesco a correre. C'è dog samurai. Dog samurai. Oddio, quello di Genshin. Che? Non riesco a correre di Genshin. Va bene. Puoi c'è questa. Arte con arma. Ma non c'è fuori. Eh, ma questo non c'entra niente con la capa, quindi ho quello giapponese. In memoria dei pirati. Bello, questo di Manpiss. Cata Galaxica, Fast & Sonic, The Next, Me & The Bro, e Japan Sai. O i pirati, o la tipa giapponese di sotto. È scegliuto. Questa costa tre stacche, vediamo quello sotto. Tutte e due, tre, quindi scegli uno. Allora i pirati, cioè, tre stacche, tre stacche, non ne vanno, quello che si fa. E ora dobbiamo chiamare il proprietario proprietario del museo. Devo prendere un quadro. Allora, mia moglie vuole comprare un quadro e l'ha scelto. Quale? Quale? Sì, quella dei pirati. Come si chiama? Come si chiama? Questa. 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 Ah, ok. Io andavo già, dove si chiama Genshinin? E' un po' oggi. Che? Ma? Ma che state c'è? Va bene, fa niente. Io amo questa. Il memoria dei pirati, sai chi si intende? Il memoria dei pirati. Ma quali? Benissimo, allora su tre stacche. Chi ce l'hai? Hai capito quali pirati? Sì, i necchi pirati che erano qui. Brava. Allora, tre stacche. Vieni a installare la casa e te li doi pure i soldi a casa. Va bene. Io guardo, tu guardo, c'è un po' che si intende. Sì, è un po' che si intende. Non le vende. Sono il doge e intanto questa. Grazie. Prego. Ogni tanto per pizza e panzer. Perché la gente non vuole investire nell'arte. Questa cosa non va bene. È vero, è vero. La pagheremo in un'altra comune. Voglio mettere un fondo. Ma che fondo ha in questi rumori soldi già? Spettere dell'arte. C'è già un centro culturale che viene per essere fatto. È un fondo. Ma a me sembra una truffa. È truffa questa. È truffa. No, le chiavi. In realtà, essendo un mezzo nel medioevo, dovrebbe essere il vescovo che chiede agli artisti di fare l'opera. Ecco, bravo. Chiedi, chiedi. No, non lo spiega un cazzo. Male, male, male. Sono schifo, sono schifo questa città. Non serve. Ma va, va. Allora, è tempo di lezioni. Tu devi venire nell'altro cittadino. A me era qui, non si larga. Eh, ma non l'avevo tempo, ma è un clavo, non se ne ha detto. Ma dai, andiamo. Anche, raga, viveva la bucchia. Ma ti giuro, io non la voglio, la moschea. Non c'entra un cazzo. Cioè, rovina il panorama. Ma poi è vicino al mio museo, mamma mia. Ma dovresti parlare nel neco barone? Eh, il barone invece di venire qua a giocare, gioca con l'altro. Ma vero e vero? Giusto, giusto. Male. Un barone è tentato un clown. Barone è usurpato. Io farei una petizione. Ma che bordello, voglio dei fulmini di bomba, tome. Ma scusate, ma sto quadro per il loro piante. Allora, per niente, abbiamo un problema con il cammino. C'è una striscia nel mezzo. Ah, è la mano. Guardi, dove c'è il cammino. E quella striscia non mi piace. Allora dobbiamo coprirla tutto il numero col quadro. È un 3x3, di più si rovina. Eh, non ho capito. Ah, in casa non posso non grandire il cammino. Ma questo dove è apparso, questo in casa mia? Io. Eh, sono un compagno di concipecca. Allora, mi giro e mi trovo. Ma questo? Bene, per la casa sono 5 stacca. Nole. 5 stacca. Aspetti, mi tiene bella. Appena si prende un quadro. Allora, mi ha cercato di venire, stai mettendo un quadro lì. Ma posso di venire? Oh, è massimo. Parlo del quadro qua. Questi li butto giù. Non metterlo di venire tutto il numero. No, allora... Allora, tutto il ventino. No, tutto il ventino. No, tutto il ventino. No, tutto il ventino. Che cosa che la sta modificando e... Quell'altra che si è messa invisibile. No. Allora, diciamo che ci stanno pensando penso a mio marito, vero? Sì, ma un po' di soldi. Fammi vedere come sto qua. Ma non penso che lo vuole lì. Dov'è che lo volevi? Eh, era... Voleva coprire qua, voleva coprire questo. A parte che la pittura... La pittura non ce l'ho io, ma ce l'ha il mio collega. Madonna, le bombe qua fuori. E quindi di base viene venuto come un 3x3. No, quindi ho comprato... Non vuole per niente. Non vuole per niente. Non vuole per niente. Non vuole per niente anche al di mezzo. No, no, no. Ok, mio marito ha appena speso 5 stack per l'arrestamento. Perfetto io, però... Non ho speso niente. Ma no, e ciò per chi la parte? Nessuno. Come nessuno. Allora, vado a prendere i colli. E anche qua piove. Mamma mia, che bella. Ma è vuotissima. Perfetto di ruolo. Servono più quadri, promuovili l'arresti. Ma pure in battaglia piove. Noi siamo la città della piozza. Guarda caso, per saldo oggi piove. Servono i soldi. Tieni, questo è il pagamento per la casa. No, 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 non è un pagamento. Io non l'accesso. Aspetta un attimo. Qua, se no, dov'è la signorina? Eh, la sto tenendo di aprire. Eh? Finite di costruire. Allora, con una stack. Questa casa sì. Due stack. Tre stack. Quattro stack. La pagala. Io già l'ho pagata. La ripaghi. La paghi. La dove? Allora, ho preso quattro stack. Dov'è la signorina? Quattro ne ho prese. Prendi l'ultimo stack che ha tutti i soldi. Sì. Allora, qui sono quattro stack. Uno, due, tre e quattro. No, no, no. Non ho tutti i soldi. No, ce li ho tutti. Ce li ho tutti. Cosa manca? Il quinto? Sì. Sì. Grazie. Tu? Ma lì deve stare il quadro, quindi? Non sta con la madonna. Ma l'ammazzo. Aspetta, vado a ammazzare. Sì. Sì. Ma l'ammazzo. No, 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 no. Venga presto qua. Venga, prima che abbiamo fanno così. dimmi sono tre staff e ho capito ma non è i soldi deve vedere se gli va bene così madonna come non riesce a scendere così allora perché i quadri che prendeva tipo questo sono grandi quando tutto il muro io mi aspetta un grande grande così posso che fare ma niente questo rimane così tra qualche giorno quando avremo altri soldi ti chiederò un quadro vabbè questo ora allora lo mettiamo in un'altra stanza un quadro che occupa tutto il muro quindi abbiamo cattato un quadro 6 metri cagliari si fa meglio mi ha scendato guarda posso grazie carnice rosa rosa che sei rosa va bene andiamo a comprare un altro qua la casa riguarda anzi c'ho un quadro ti mandai una foto è vero è vero fammi quello vai a prendere il quadro vai poi mi metto i quadri a uno stack di moneta c'è un nano c'è un nano guarda quella mia pag Ho comprato boh recupero un po di soldi è aumentato solo per 3 stati a bordo io non ho mai aumentato la prima risulta ma costava 12 ma che costavano 12? sempre costava di 20 come se anche lui purtroppo sono grise tutte io come giorno vado a dormire sul divano stella se fossi stata una fatina potevi dormire nel letto se fossi stata una fatina ma non lo sei ma guarda sono tutti cattivi perché sono piccina ah noi cattivi tu che vieni a spararmi ma ci addosso ogni seconda ma tanto io ti curo mi bullizzi nel mezzo ti do tutta la vita basta ma ti brucio il negozio andiamo ma è fiore povera non l'ho visto chi non l'hai visto? ma che stai dicendo tu? ma sei pazzo c'era qualcuno che voleva iniziare forse poi ora iniziamo non so chi comunque mi sono appena svegliato ha fresciuto la nuova patch del server ti conviene scaricarla a proposito quali server? patch server dragons uscita potete scaricarla comunque ti vuole entrare nel colpo di polizia cazzo non so qualcuno ha detto vuole entrare nel colpo di polizia ma scritti a nubis sento che tu ti toglie che hai fatto? ah ce l'ho scritti a nubis io penso che era un'armatura sinceramente ma non hai visto niente? no io non ho visto niente ma guardami guardami un attimo manco tu hai visto niente il nuovo server sta dominando i bench però almeno questo non lagga non crash oh si risse migliori sempre non mi spiace non mi è mai crashato se potessi assurdo non mi è crashato non mi è venuto da fare la cacca ciao stella ti interessa? stella ti interessa cosa? devo fare la cacca devo fare la cacca no ma fa ah no mi sta no ha sbagliato serve ma è la stessa skin però ma è lo stesso nome quindi con lei non puoi sbagliare mi sono in mente che devi cambiare la skin con lei non puoi sbagliare la mamma è la stessa è la terza di uguale anche ah hai visto qualcosa voi no eh? no 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 guarda frate ora mi sta scegando l'occhio ancora di oltre ancora sotto un petto di steroidi ancora non c'è dovuto sbagliare ma fammi bruciare gli occhi non lo deve manco guardare ma perché è nemmeno questa roba cioè è possibile non lo metti togliere ma secondo me la sa schede non lo vuoi togliere devi banarti proprio devi cancellare l'account comunque devo vedere un quadro fammi vedere ah no già ah no no doveva farmi quello la speciale no niente niente sbagliare ma è male che c'è tu a meno vedi? nessuno compra niente ma se hanno comprato tre di loro ma non è vero ho comprato anche io il quadro io sì wow questo lo comprerei subito questo è in affitto sono uno stacca se sì le vale tutte dov'è il quadro? è quello questo ma no allora io era un affominatore non è questo è in affitto ah Dan ho sbagliato aspetta va bene Dan questo non ha senso mettere il petto perché questo è un quadro in affitto ho fatto l'altro su lui e il suo ce l'ha dato lui Dan stiamo affittando il posto dimmi dimmi mi dica mi dica ho sbagliato quadro lasciamo un momento la basta ma chi è che fai che è vero ha rotto i coglia qualcuno grazie ecco 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 stella subito mette le donne in mezzo ma lei può cosa è qui se mi fichi ti ammazzo lo sto scherzando cosa 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 ho fatto il testo no ma ce l'ho scherzando finito di ma c'è l'acqua ma c'è l'acqua mi cercavo di spingere nell'acqua ma io non c'entrava si sa ma pare nessuno guarda io te la dietro sei proprio tipo sai le persone che guardano in un angolo ma non c'è il coseno a proposito ma l'acqua non c'è online cazzo mi serve no ma per te dove devi chiamare dè non ho mandato è quella la foto è nuovo quadro in affitto no è quello è il quadro che cazzo non stai dicendo allora io si la tua arte sai va bene ma lo vuoi in affitto nel senso vuoi tenerlo qua in affitto vuoi mettere dove sforlo no a casa me lo devo mettere ah perfetto ok va bene controllo io questa arte moderno per quella parete che ti ho detto prima no vuole con il cammino dietro non so come ma con il cammino dietro c'è il quadro con il cammino dove cazzo di quadro non so se roba cambiano il muro buonanotte aspetta puoi mettere i combi bianchi al posto di quelli bianchi dove è cosa ah sta qua andiamo via vieni un attimo a casa tua no no vieni un attimo a casa tua ah ma non ho pescato non ho pescato niente allora non ho pescato niente non ho pescato niente ti fa un po' pescato vieni un po' pescato vieni un po' pescato Ed è ovviamente non mi ha seguito Tu 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 Perché solo lui vuole mettere quattro Eccomi comunque Arrivato il signor Dan Mi spiega ai nati come lo vuoi Il cammino è da togliere Non si viene se no Ero via tutto il quadro Allora mettila dopo voi tu Adesso il quadro tuo E facciamo cambiare Oh semplicemente Ascolta me Chi c'ha un piccone Io Sposta semplicemente tutta la struttura di qua E il quadro lo metti Cosa Ok Non c'ho vedere Aspetta questo Deve fare cos'è Cosa? Come cazzo si mette? No c'era uno spione Oh no è tutto sforzo Come cazzo li ha messi? Ah Abu Ehm Ehm Cazzo Deve fare cos'è Deve fare cos'è Deve fare cos'è Deve guardare di qua E poi devi guardare di qua Aspetta no Chubecca Chubecca Eccola Ma cazzo C'è qualcosa che non va Ah ma vaffanculo Non era così Lo sai Ecco bene Va bene Fa niente Almeno Non spezza La linea Va bene Dove fare il quadro? Cioè cosa mi smota il cammino No no abbiamo sistemato Così non spezza la linea nel mezzo Dove è qua? Aspetta faccio una cosa Fai vedere il quadro a tutti No non ce li bocciamo Mamma Mi si è aperto il vento Ma hai attrochi notti Ah chissà No Ma vi è sto quadro qua Ho cercato il capito dove metto Deve posizionarlo Eh aspetta Aspetta Io un attimo Levate Levate Me lo resistete Togliatemi Sentimenti Togliatemi Vabbè io c'ho una sedia Ok allora Nuova tinta Tieni Vado a sistemare Sto cammino Ma so raga che vi ha aspettato un quadro divertente da parte mia Ma oggi non sono divertente No No Oggi il doge non è divertente Anzi è un pochettino strumento per il mio Ragazzi investite nell'arte Quanto è grande le muri? Quanto è grande la parete? Ok allora devi prendere i muri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 8 9 10 4 4 6 per 8 48 Hai su culo e fa una botta A botta il filofino e mamma da una bocchina 6 per 8 48 Posso dire una cosa Questo quadro non è che ci dice tanto Infatti non me lo volevo mettere lì Ha scelto tutto lui No ma come dopo c'è Quindi sta dicendo che le donne Non conta il loro carire Quanto è assolutuoso Il mio dosi Lei ha dei gusti Quanto è questa felica mi ha mai dato una patata in testa Adesso è molto meglio quel cammino Ohhhh Tipo come è merda Molto meglio Sì Guardate che lei è la tossitrice Oh no Siete tritti Ma chi sarebbe? Non ho capito Ma chi sarebbe? Ma che bello Ma chi sono? Sono bellissimo Ma sono degli esseri umani Qui non siamo male Quando ero più bello da giovane Quando ero più bello da giovane Mamma mia No era di cinque anni fa quella cosa Ah sì cinque anni fa Ma lei cinque anni fa se è zitto Ma sei scello Ah sì t'ho passato almeno quattro anni Ma voi mi senti insieme Wow Tre sicure Nooo Ah ora è meglio Mi piace più Vuoi anche la corriscia Nooo E io ho già sentito E' proprio brutta Vabbè quella Questa 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 Il colore Rana Ragazzi Ragazzi In chat su twitch c'è un clown Si chiama sdrubale Perfetto Ma sì ma infatti lo banno penso Dopo a stasera Ma è che ha fatto tre assenza è uguale perfetto ma perché c'è quello di one piece che non c'entra proprio un cazzo ma frate vedo che sali le scale è come se camminasse da bene scende e guarda si non ci sta non posso prenderle l'opposto aspetta ma come ho fatto subito dopo lui ha preso i due e me la preso la cosa più bella del museo e che pagano è sempre il quadro più bello del museo 3 sense se non avvisi infatti non hai avvisato non hai una scusa buona per non mancare è vero mi prendo il baronato io allora dividiamoci le proprietà io mi prendo la macellaria è tutta la stalla il baronato è già mio il baronato chi ha più soldi no già l'ho detto io al massimo ti prendi la casa va bene a posto mamma non lo posso mettere io cosa? mi ce l'ho detto la macelleria allora mi prendo la posta ma l'ho detto io la macelleria mia mi si fai una macelleria oh dio dov'è felipe a casa cosa? devi pagare il quadro quale quadro? mi è scampato mi fa scampato no adesso questo mi sta chiedendo i soldi a casa senza motivo vabbè non pagare il quadro non è un problema no se non paga non paga non paga eh da tre stack quindi no 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 allora sono personalizzati sono da cinque stack cinque stack mammoni grazie oppure la metterei qua i letti sono qui i soldi e la scrivania qua esatta che hanno dato il quadro delle green come hanno dato il quadro delle green no è stata stella ma la metti su quadro apposta e apriamo come un gatto mi avete rubato un comodino chi è che ha il mio comodino? io so dove sta quel clamo vogliamo un comodino che roba del comodino? cioè a casa mi è diventato un bordello uno due tre quattro ma qui ne ho solo due lo so che quattro vabbè posto no no è un casino dov'è il mio quadro? vabbè 5 secondi per mettere a posto quel quadro no vabbè poi gli devo fare aumentare il prezzo cioè a casa mia è diventato ok alla fine il green ci è arrivato qua in cucina ok chi è? vuoi partecipare all'asta? no no allora vediamo l'asta della casa di panzer questo è un affare ma potete metterlo una sacchetta qui giù? è che è un cartine guarda guarda questa è la casa che mettiamo all'asta vieni a vedere solo le casse stack dentro voglio la casa eh infatti qua la casa è la prima cosa che qui stiamo vieni a la casa raga prima di far partire l'asta venite a vedere è davvero in vendita? si si ma perché? è perché il player è stato bannato guarda quanti soldi raga mi deve dei soldi mi deve 100 cose 100 monete d'oro eh appunto se compri casa non sono 100 monete sono letteralmente 4.000 monete 4.000 beh ragazzi possiamo iniziare l'asta partiamo da una mucchia che va a dormire notte a chi va a dormire uno stack allora partiamo la prima offerta uno stack dai aspe però la pioggia è qua piove sempre quando non deve piovere porca puttana allora ragazzi la prima offerta uno stack di rama poi io 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 ecco qua di io due stack poi tre stack poi 20 stack 20 stack 21 21 stack ah ok 25 25 stack 26 26 stack si dopo ti sto ribattendo scusa quando quella a fianco a te l'alieno no 27 27 stack ho sentito 28 28 stack 40 40 stack 40 stack 45 45 45 45 46 46 50 stack 51 50 stack 50 stack di monete ma se non mi sai che non si ho 50 stack io sono il re di ok 50 stack uno sono 3.000 sono 3.000 e 2 3.000 e 2 offre 3.000 e 2 sono 50 stack ah ok 50 stack 1 51 51 ah io panzer il labio si sta nervosendo quindi vendiamola per questa prossima 50 stack è uno è 21 metri quanto 55 stack 55 stack e 1 60 la casa di panzer 61 stack ma non per la casa ma per i soldi che ha dentro tipo 1000 stack di monete quindi 55 ma signor doge bisogna verificare che loro abbiano i soldi per pagare se no così l'attività pizza eh no ma infatti se non mi danno i soldi viene annullata quella vendita eh sì che cazzo di asta è è dopo aspetta non stiamo andando da questo dai 61 stack forza vabbè comunque smettila di offrire non li hai soldi vabbè si prendono i debiti cosa vuoi non puoi debitarti con nessuno ma sì lo sta lo sta no non è vero si ma c'è una 50 monete il massimo allora mi sai 65 come è 3.000 e 150 mi sai 63 63 1 64 64 1 64 2 ma fammi le vedete ragazzi state pagando 56 ho 200 io le pago intanto le tasse poi vado a pagare va bene va bene paga le tasse è impossibile che tu abbia 200 buonanotte ma secondo me stella non ha capito che questa casa qua dentro c'è la c'è quasi i soldi dello stato aspetta aspetta un attimo andiamo a verificare se Carlo c'è i suoi animali se lo vede o compra dal centro eh vieni a vedere vieni qua ma scusi madonna mettete la testa sulle casse e vedete facciamo che si tolgono i soldi se li tiene lo stato e poi si fa la pasta per la casa ma in teoria dovrebbe funzionare così le case quelle che vengono più ignorate i soldi al globo all'interno vanno allo stato esatto le cose si prendono lo stato nello stato è appena diventato ricco effettivamente dai prendo tutti i soldi prendi i dolli prendi i dolli prendi i dolli signor doge stava mentendo eh ma comunque abbiamo parlato con le persone che lavorano a comune ha detto che soldi dovrebbero andare lo stato io sono d'accordo allora vediamo chi è il più ricco vediamo se lo stato o panzer ragazzi scrivete un attimo 4.032 monete aspetta prendo la calcolatrice vediamo chi tra panzer e lo stato ha più soldi ma poi doveva prendere questi soldi ma tra 1.032 perché prima di voi ha fatto quella conversione più spessa eh io non l'ho fatto ma per quale motivo stiamo spendendo la roba panzer perché panzer che viene da questa cosa la prendo allora 7.444 più cos'è quell'altro a fianco no porco dio ho cancellato per sbaglio come si tratta 7.744 più 4.000 che sta qua dentro 32 pezzi ok praticamente panzer ha in totale 11.776 pezzi di rame tra cui 7.700 monete andiamo a vedere lo stato continuato ciao vado a vedere io intanto ciao ciao ah beh vince lo stato a prescindere ma non ti deve fare i punti lo stato solo con 3 casse sono 7 casse di monete 3 casse abbiamo più soldi di panzer ma comunque nel senso alla quarta stazione si dovrebbe fare la stagione più spontanea cos'è la cazzo di cane ma stiamo scherzando ma ti pare che vende una casa con tutti quei soldi che si sceglie certo ma compri te comunque lo stato con 3 casse ha 15.000 monete panzer in totale a 11.000 cioè praticamente lo stato ha 3 volte i soldi di panzer tutti i soldi che abbiamo rubato agli altri no qualcuno è morto esattamente 8.000 monete cosa signorina io sto aspettando da sapere l'attività no no lei ha il piede passato no no non dicevo a lei signorina doge doge vorrei comprare l'attività vuoi attivare vuoi attivare ma no stavo scherzando mica però vorresti l'attività di macellaia è in vendita ma sai che quella te la vendiamo ma visto che panzer è inutile per colpa su lui non possiamo vendere le cose come non mi sa allo allo quanti soldi ha lo stato quindi solo in 3 casse su 8 15.000 monete ma le casse quelle sotto o quelle sotto no sotto ci sono ci sono oggi ci sono una città che cazzo non abbiamo convertito tutto cosa per l'attività per l'attività dei macellaia stavano parlando senza di me il server non gira no non è che senza di me il server non gira è che se l'unico macellaia sei un coglione ma gli soldi sono cittadini ma che sono cittadini è quelli che ti ritenete dai cittadini dovrebbero essere debbucati ma come no sì no i soldi dei cittadini vengono rubati e usati per investimenti pubblici cosa che stiamo facendo mi sbaglio tu hai le luci hai le strade fatte ci sono investimenti nel paese non ce l'ho neanche davanti alla mia qui secondo me dovrei occuparmi io del bestiamo perché come mi occupo del pesce mi occupo della carne e mi occuperò di tutto il cibo ma no scusami dovrei bestiamo un pochettino zitto e perché no allora facciamo una cosa andiamo a vedere l'attività di Panzer scusami perché non posso non c'è carne non c'è carne qua c'è poca roba la pelle di capro non si vende vedi guarda sta finendo tutto 500 euro cosa? è normale perché lavora di in touch poi viene diventato di in touch questo negozio ah sì qua è il loro magazzino volevo fare qualcosa di più che se vedi anche a norma io mi annoio da morire nessuno compra il pesce e in più le armi tanto che il pesce ormai nessuno gli interessa la grandezza rispetto a quello che c'è esternamente la tua è illegale ma è causata dallo stato ma se non ha l'accesso alle casse come fa a lavorare in touch ora non sta lavorando però l'ultimo che sta lavorando sta tenendo una roba si sta aspettando il sistema gli animali te li uccide e te la roba la conservata ti sta aspettando e sta aspettando i soldi della paga ma qua è una bella bomba atomica perfetto c'ho uova gratis per il mio negozio io guardi sulla gallina ti dice quando spano al buono che figo l'ha appena cagato uno stava 0 una è la cagata guarda quanti sono interessata vieni 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 le seguente persone sono arrestate signora stella signor simon signor chi è che ha ucciso i polli qualcun altro ben se ne arresta anche tu mi sembra un po' di livello guardi i polli io c'ho questa ma sono anche riuscendo stanza le ho tolto a mangiare io le ho fatti crescere io cosa fate i miei polli i miei polli i miei polli io ho andato al popolo comunque si si va bene io non posso essere arrestata grazie a me non mi siete congiate il culo quindi perché era pesavo le due capi non basta diare le cazzo di buono quanto cazzo di buono c'è gente che ha rubato la carne di polli vabbè tanto il macellaio non c'è mini cazzo sarei io il macellaio vabbè ma non sei tu il proprietario ma non sei tu che cazzo fa tesoro divietato fa tesoro divietato fa tesoro divietato ho quasi finito ok finita ok nonostante tutti questi animali va meglio dell'altro server tanto il macellaio non si presenta quindi ne parleremo in caso se lo vuoi tu ti compri 1,2,3,4,5, la stalla 6 e 7 la stalla e le capre non mi servono niente come le capre? le capre la stella ogni anno chiede ogni inverno ti chiede tante pelle e la stalla ci sono i cavalli nostri in affitto sai quanto ci guadagniamo solo i cavalli? a meno 90-80 perché comprate i cavalli se stanno in stalla paghi 10 monete a cavallo ma non tu chi ha il cavallo io ho due cavalli dentro va bene allora ma il job dragon è offline si si verrà aperto tra 40 minuti felipe dove andare felipe? no questo è l'altro ma dimmi dai niente ho cercato felipe ah ok comunque luke si sta divertendo un sacco nel nuovo server è stupendo il nuovo server quindi l'ha comprata infatti la cosa la potrei comprare anche adesso le macellaie ah ok bene mi serve mi serviva vado un attimo nel mio negozio e vengo subito aspetta mi servono anche a me fare shopping però devo andare a casa a prendere anche soldi a prendere anche soldi a prendere anche soldi questa è la chiave del comune gesù mio gesù bambino poi andiamo un paio di soldi chiavi che babbaro andiamo un attimo a che babbaro a vedere le carni a fare male ok la mia roba che cazzo faccia hamburger e infatti guarda come è venuto subito quel coglione mamma mia e fai pure bene a chiamarlo caglione io devi fare un processo contro il barone che ha fatto la sua responsabilità oddio si può fare il pane di mais che figo fa pane o mais? si allora mi serve sia carne macinata che carne ovina quindi mi serve però io non ho pendita e pollo le uova io ce le ho aspettate un attimo solo sempre le scuse trovi panza perché questa non la posso più tagliare serve carne questa questa non mi serve è la carne ovina ecco quello che mi serviva tanto non ce l'ho proprio non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho ciao signorina aspetta anche lei ma c'è l'aria io abito qui davanti vabbè effettivamente ma non le tanno i fassi dei suoni degli animali ah ma non li senti da qui a che rispetta il limite dei rumori e la porta non si lascia l'aperta signorina hai visto samir cosa vende il suo negozio di cibo questo non hai mai visto il negozio di samir sono molto meglio se ci vede li mangio anche ormai allora avesse comprate hamburgeri prendo già i soldi che devo comprare la carne vado un attimo vediamo se è arrivato il macelloio cosa no ma non mi serve il pollo crudo per i miei piatti mi serve o vino o vino e la carne ma se vede è finita e ancora mi sono specializzata in cucina allora mi servono mi servono due stack di carne o vina cruda e di manzo io però non c'ho accesso le casse perché sono macellaio scusa c'è degli animali devi dargli le chiavi i pazzi eh si però non può o gli rompi le casse oppure lo vado a fermare adesso eh si vai oppure gli rompi le casse vai a fermare dai mi dai quello che riesce va bene fino a che restate allora fino a mezzanotte quindi altri 45 minuti poi andiamo su dopo stacco però andiamo comunque su age of dragons è uscita la nuova patch di age of dragons ti conviene farla ma che cazzo è quel coglione che ma perché quel coglione sta arrivando hai visto vintage si è questo che sta uccidendo agli animali per me dove sta uccidendo agli animali qua ma bravo saggio almeno qua non laggiamo non ci ne va di testa ma comunque lo so c'è un calo di frame lì però abbiamo cambiato una mod c'è una mod abbiamo scoperto perché anche gli altri facevano crash perché è successo anche con Panzer abbiamo cercato su internet è praticamente una mod di origine un addon delle misure questo è scritto assolutamente non scaricate dalla 3.7 in su perché fa crashare e infatti abbiamo fatto il down ground cioè siamo passati al 3.6 e sperare che funzioni se no dobbiamo ancora tornare indietro vai dimmi tutto c'hai? questa cosa? è due ok e per sbaglio adesso mi servono quelli del manzo sempre due due ok ossia va bene eh ti pago ovviamente va bene no no ah guarda che c'ho la spada più grossa guardiamo sulla cos'è mi giochiamo a distanza ti colpisco da lì però posso combattere sì ma io da qui ti colpisco eh va bene è giusto eh la mia spada è grossa colpisci 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 mi sei coraggio vai colpisci vai guarda che mi hai di danno guarda quanto danno ti faccio io no ma non ho ancora niente armatura adesso c'è la piedra in realtà la mia armatura è lavata a iotto vabbè ci mancherebbe che non è l'unico fabbro che abbiamo ti manca il pezzo eh adesso stavo bene mi manca il piede ecco 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 grazie mille uno e due ma te l'ho dato l'altro? però mi piace la rimettazione no te l'ho dato ecco l'ho dato mi piace essere senza quando non sono inattato ok cruda immagino che costa un po' di meno va bene dai facciamo uno sconto di 4 per stack quindi uno sconto di 8 più 4 più 4 fa 16 di sconto il totale verrebbe 80 più 60 fa 140 più meno 8 132 aspetta che devo fare ma ma se sa che gli ha dato ha fatto il riconnimento a vita praticamente 4 stack come 4 stack ah si devo andare dai 8 128 si 128 più 4 si perfetto ok vado a lavorare si perfetto va bene per ragionare il pack come si faceva la veloce allora vai qua devoci vedere aspetta qua questo vedi c'è 1.3 vai qua come cazzo come cazzo si faceva no qua sono molto sicuro ma cazzo si aggiorna mi sono dimenticato come si fa aspetta può essere no no devi fare così guarda secondo me aspetta e già vedrà cazzo si aggiornava la versione mannaggia il nome di cristo non è questo ah eccolo perché no niente è colpa mia scusami perché avevo fatto una stronzata per fare qua devi cliccare change version e metti questa perché per sbaglio ho messo se tu attivi la modalità modifica ovviamente non vedi più niente infatti quando fate questo non attivate mai questo perché vi sminchià tutto dovete fare qua e c'è tutti i tasti vedi sono aperti tutti i tasti quindi tu da qui puoi adesso aggiornare fai change version e fai così e ti dice anche cosa aggiunge vedi se tu vai nelle patch io scrivo cosa succede vedi nelle varie patch ti dice cosa ho aggiunto cosa ho eliminato cosa succede vedi sempre nell'ultima patch ti dice preview version patch.i poi è stata fixed crash province update bug fix vedi ti dice tutti gli aggiornamenti che ci sono in caso non devi mettere update new profile ma devi sul tuo profilo attuale perché sennò te ne crea un altro ora devo lavorare devo andare anche in bagno però prima Nati comunque guardo ti insegno un trucchetto da da ristorante guarda si mette la carne a posto dello scudo qui coltello in mano tasto destro premuto mi dica cosa eh signorina sto cucinando sto provando dei piatti buoni eh poi adesso vedi che ho sdoppiato la carne ho fatto più carne quando sdoppi la carne tu ci fai più piatti eh ciao cosa 것 di ¿q qui 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 su va intanto per le mie ricette mi serve tutta la roba cotta mi pare questa deve essere cotta questa è cotta quindi intanto la roba cotta ole carne sta venendo cucinata ah intanto che si fa la carne intanto che si fa la carne mamma mia quanta carne devo preparare ole ole Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti pari di nessuno. Ok, io devo andare un attimo in buono. Ok, io devo andare un attimo in buono. Ok. 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 dentro ci trovi delle cure di lettura speciali, ora la cassa è vuota, ma dentro ci trovi armi che sono speciali, o anche un'armatura speciale, tutto dedicato all'acqua, tipo frecce che frecce che puoi sparare in acqua e vanno più lontana, una zappa per la terra che non hai bisogno di non ad acquare le piame perché di nessuna, quindi è come avere il terreno sempre bagnato. Ah sì, erano dentro la cassa, ci trovi legno, alghe e spartature. Io pure oggi ho pescato degli stivali che mi aumentano le città sott'acqua. Sì, sì, sono bellissime. Eh, ma è lei, è un'altra cosa. E per questo l'ho preso, se l'ho vista, subito l'ho scaricata. Anche perché è proprio il mio personaggio preferito. Mamma mia, fa fa benissimo. Sì, è vero, carina. 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 Mamma mia, fa bene il mare conoscendo. Sì, stava andando finito. Grazie a tutti. Io apri libro a respirazione. Grazie a tutti. 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 Buonanotte pizza comunque. Anche se sei un clown, ti perdoniamo. Pane, cavolo, pomodoro e cipolla. Pane, cavolo, pomodoro e cipolla. Pane, cavolo da tagliare, cipolla e cipolla e cipolla e cipolla. Yeah. Ok, fatto Adesso facciamo i panini 1, 2, 3, 4 E mi sono dimenticata carne Eh, ovviamente Classico, classico Dimenticata carne Aspettate, ora arrivo Mamma mia, come bussate Manco fosse una pornostar Che mi cercate Allora Momento Due secondi Ma chi è questo blu? Allora Chi è che mi cerca? Chi mi cerca? Chi mi cerca? Io la cerco Mi dica tutto, signore Eh, ma per caso Si sa dove si possono trovare Delle zucche? Che mi dica che in città Non si riescono a trovare? Eh, zucche dobbiamo andare a Blackwater Ah, Blackwater ce le hanno? Sì, se vuoi ti accompagno Un momento Ah, allora va bene Ah, allora va bene Va bene Vai vai allora Tranquillo Sono piatti già pronti Mi serve il grano Un po' Un po' Un po' Un po' Dimmelo quando hai finito di cucinare Ok, che ti serve? Se vuoi andare a comprare un kebab Già finito Ma sei Samir? No No, no, no Non sto facendo Samir Perché dovevo solo preparare i piatti No, no Non mi dico che vengo a fare io Perché? Ma abbiamo fatto la riunione oggi Eh, va bene Con tante cose da pensare Con tante cose da pensare Non ci abbiamo pensato E capita queste cose Signorina Ma quindi adesso stacchi Dovi staccare 5 minuti fa E adesso è capito di terra Prova, sì Che è Di qua avrò dei cavalli A me, fammi chiede a posto Almeno un kebab potete comprarlo Ma che stai? Il pagamento Il pagamento Ah, ho sbagliato È scarico sto cesto Non sai che la cesta Allora Io ho finito L'autocucina Ho fatto un po' di investimenti Ma quando è che metti in vendita La pelliccia Cazzo Che è una cosa che cecca tantissimo E non c'è da me E quantomeno c'ho Comprala Ce l'hai le mani? Eh, avvio Barbaria in la chiesa Come barbari in la chiesa? Ma che è tutto questo genere? Dove cazzo sono uscito? Oh, dietro Ma che c'è notte sti barbari? Non lo so Oh, grazie a posto Ma che cazzo è? Ma che è sto bordello? Dove sono? Ma che è sto bordello? Non ti sento Di nome di Cristo Non ti sento niente Ma dice che è qua Ma io qua dentro Non ti sento niente Ma che cazzo è? Ma? Ma? Aspetta Non lo faccio io E' questo E' questo Ma siamo seri? Eh sì Ma non ti fa danno i creeper? Ma che è qua? Ma che c'è notte sti creeper? Non lo so perché c'è sta roba qua sotto Aspetta Sì, tipo sotto Non lo rispettete Quindi tipo Ah no, scherzavo Ora te li hanno fatti i danni Allora E' meglio non ti dico che cazzo era Che cos'era? Che cos'era? Era un creeper? Era un creeper? Era un creeper che andava in giro Aveva una borsetta addosso E cambiava per tutta la stanza Noi in guerra li chiamiamo i disturbatori Quando ce l'hanno i vendicatori e i fredoni Non si capisce un cazzo Comunque sa di fatto Che la situazione qui E' un po' particolare Ma niente abbiamo risolto Ma dov'è signor Ah è andato un attimo a prendere la roba Dopo una Mamma mia E' un po' particolare Vado a posare i soldi E le chiavi E' un po' particolare E' un po' particolare Ma dov'è ci sono i soldi E' un po' particolare Oh che cazzo è sto di... Perché non ci sono torce qui Ah perché i cartelli statali Ancora non sono state fatte E' un po' particolare Oh che cazzo è sto di... Scusa Ah ancora non sono state finite Giusto? Dobbiamo fare questo Vendere case ristrutturate E questo Salve Come va? Allora Devo andare a portare la roba Taratata Taratatara Tararantaram Taratara oh non tu 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 ti bu tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Mi sono rubato il cavallo 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 Ok le casse sono tutte chiuse La ce te la sicuro Comunque Ok questa idea non potevo averla all'epoca del mio canale che era bello tosto Faccio queste cose perca puttana Sai quanta pubblica avrei fatto con l'epoca Facciamo pagare per usare la wave stone Mettiamo la wave stone e la facciamo pagare Eh si 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 Salve doge Ma che cazzo sta Stiamo parlando di Age of Dragon Per questo ci eravamo portati in un angolino Ma che c'è della wave stone? Eh ci siamo partiti in un angolino per questo Ma lo sai che non si possono rompere? Ma non l'hai attivata? Eh no Perché se lo attivi non si può morire No no Ah una volta attivata come si può tornare? No 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 Ah ok Quindi ho una nell'inventario tutta mia Ah comunque un po' di birra ce le ho se le volete Ah si Ah si Eh sono andato a come si chiama l'altra città Ah Blackwater Vedi che c'è Blackwater lì ce le hanno Ho preso anche le barbabietole per un altro tipo di birra nuovo Si la c'hanno più cose qua vendono più roba classica Si un po' più fornita Si si quello si Si è un po' lontana da andare in barca a queste cose qua però Vedi che ce l'avevo così io che sto stupirla Ma che cazzo Ah questo è che non vuole che vende l'altro per questo Vabbè diciamo che se era una roba interna farebbe meglio Buonanotte signor tasariere Puoi provare il subito dai Aspetta che sono un attimo due secchi da Ah ma andate tutti a dormire? Vabbè comunque da Age of Dragons si va prima Ok Ah che vado proprio su Su Baldur's Spirit Odevo che sta aperta No povera Sora Chi è Sora? Non mi ha detto dove si Ah sta chiuso nella casa di pizza Chi ho preso a giro? Tu hai offerto l'altro giro e io devo prendere l'altro giro dell'ultimo giro Apposta Brava bambino Brava bambino Eh non ti cazzo perché se no devo andare al museo a prendere i soldi perché Eh pure che devo andare a casa Eh si si Ma dove cazzo è Carla? Ma i soldi si portano sempre presso Quanto è birra? È consentito il cavallo no? Sì sono animalissima non mi vedi come sono messo io? Eh giusto del genere Con tre birra Dai ne bevo una anche io Ah bravo Due E quanto? Scusa quanto si paga? Eh Michele allora queste qua aspetta che qua Allora questa che birra è? Quindi a questa è quella cosa Ma mamma Mi piacciono di Ar E quella nuova a 5 minuti sarà pronta Sì ma mi sa che qualcuno ha due birre ragazzi No 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 Ah ok Devi cliccare Non devi rompere Brava bambino Aiz 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 A cala 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 A saluto Eeeh 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 Oh che bello sto effetto mamma mia Vorrei sentirmi così ogni giorno Ma sai stanotte ho sognato che mi operavano Mi mettevo a piangere Ah Eeeh Ho paura di quello che è succeduto Adesso voglio di una birra vera però Falle Adi prendiamo una birra vera Che cazzo è sto effetto di danno Oh Tra 3 minuti E' pronta la birra nuova Il cavallo è impazzito Eeeh Non lo riesco a ottenere Lo stai per morire Che ti fa Vai in avanti Primi dubbio Ah non lo riesco Eeeh 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 è morto mezzo il ca**o si è uccidere io giro l'assidio, quello non mi sta bene te la faccio io ne ho messo ma non è che avevi avuto un cavallo ma che mi salvate avete visto la vita di pezzo il collo ha quasi ucciso sono quasi di berrena, vera birra ma non ci vuoi dire ma non ci vuoi dire facciamo dammi 5 monete va bene conveniente 5 monete troppo è regalato per lì ho dovuto comprare il ghiaccio il grano ma 5 monete è poco è poco? sono buono ogni drink ha almeno 7-8 vabbè 46 di basso facciamo che c'ho anche una pagata tra 40 secondi è pronta quella nuova vai vai accogliela ci deve provare di caso comunque dobbiamo provare dobbiamo provare comunque questa moda la preferisco di più se non dovremmo metterla anche dell'alto mi sembra fatta meglio eh perché puoi mettere sul si mi sembra fatta meglio sinceramente ma una domanda ma il gioco dragon la taverna è preso o non è preso? ma che ne so è il tipo che la voleva ma è presa però sta anche gabriel quindi in teoria uno dei due ogni tanto deve questa ma io non ho visto nessuno dei due quindi secondo me è meglio se la prendete voi che almeno vuoi giocare allora qual è il problema che stasera quel ragazzo c'era solo che probabilmente l'avrò fatto crashare due o tre volte ah perché aveva quel problema l'azzo ma fatte la duna taverna appunto ci allontaniamo taverna come ci allontaniamo eh sì non si paga le tasse oddio ora ora ma si sta però nell'altra modo per esempio ci sono più birra è quella la cosa sì l'altra ci sono sì è da provare vedere un attimino come sono i crassi sì beh da provare la roba del boccale o poi c'è la cosa del boccale è fighissima vabbè si mette entrambi si disattivano le birre si tiene questa qua per le birre e l'altra si tiene per il cibo ciao ah non vieni sul cosa? no allora è proprio come l'ultima volta che siamo entrati io ai Panzer però non laggava era liscia come Osiris da quando abbiamo cambiato la moda ma Kvass alla Zuppa vai 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 questa è più leggera più leggera? sì una birra più lunga grazie sta arrivando adesso la botta sta arrivando ah no adesso mi salita dopo aspetta è salita dopo ma è comunque più leggera sì ma no questa allora non bocciava allora guarda c'è vieni unicassimo uno c'è anche questa questa struttura aspetta che anche Piero la vuole vai Piero vieni unicassimo uno Piero Piero dove vai? Piero è ubriaco Piero non è entrata vieni a Piero vai Piero vai tira Piero no Piero non è entrata solo no Piero prendi Piero vieni unicassimo questa mi prendo io voglio mi sfondo di birra stasera chi è che vuole anche l'altra questa è diversa ma io ovviamente mamma mia questa questa si distrugge questa è un effetto mamma mia andiamo qua a birra oscura al latte al latte prendi pure ce l'avete tutti che c'ha bevuta quella mamma mia non fumo qua non fumo qua guarda vi faccio sentire un bel rumore guarda aspetta wow mamma mia è venuta a sede però è lattina è venuta a sede solo una birra una birra una birra lì è un uomo serio domani mi compro 20 birra guarda ma che cazzo è pesante questa è tosta questa è bella pesante ho visto le nuvole l'altra mod però rispetto a questa c'è una cosa che è molto forte se bevi tanta birra dopo hai sempre nausea costante per 8-10 milioni si perché si accumula si quella è accumulativa questa invece no si allora si mettono allora proviamo entrambe al massimo mettiamo sul bancone i come si chiamano i item frame tanto tanto come dicevo anche lui bisognerà fare poi una come si dice un viaggio almeno per cercare il nether perché ci salverà il quarto per gli shop quindi si i shop sono importanti dobbiamo fare un'esplorazione lì no peccato ma forse che è importante eh se non ci sei metti la roba se non ci sei come fai ma le mettono tutti serve anche quello marcus è proprio utile perché una persona se non c'è mica una vita uno fuori voglio mi è salita nata la botta tornata infatti vedo che c'hai ancora c'hai il malaugurio per un'ora e venta vabbè il malaugurio eccolo là ma perché c'era drunk 3 poi parte drunk 2 e poi parte drunk 1 solo che nell'altro Carlo come faceva nell'altro quando era drunk 3 no la nausea era costante non si fermava finché non si toglieva finché non si toglieva drunk 3 voi vedevate la visuale che si muoveva sempre dove sta bellissimo bellissimo no perché tiene la nausea nella vita reale no beh però è bellissimo sta salendo una botta una botta voglio messare attenzione con l'arco che facendo così spegne il fuoco che è una tecnica che sta facendo ma che vuole fare ma sei ancora mangiato la carne come i carnivori vabbè io mangio le patate perché non è partito l'alert non è partito l'alert va bene buonanotte Sara grazie per il ride ma non so perché non si è partito buonanotte grazie ancora no 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 io direi che è il momento di andare no attenzione sì mi rimango in taverna così dormo in taverna anche io mi rimango in taverna così quando ritorniamo domenica perché vi ricordo venerdì server ha chiuso ah venerdì sono chiusi tutti i server allora quello dei zombie chiuderà perché verrà chiuso perché non c'entra più nessuno da quando è stato aperto dai giovedragos era anche paese non entra proprio più nessuno no è morto è perché quelli che entravano lì erano eravamo noi che entravamo vabbè erano più che noi erano c'erano player che giocavano a quello però ho appena aperto dai giovedragons vengono a giocare solo lì adesso ah beh possiamo tenere beh ci sta comunque quello lì magari è quello di punta quindi questo sì vabbè ma quello dei zombie vi devo fare proprio un pacchetto se proprio devo farlo sinceramente te la posso modificare beh sì esatto beh dai raga io direi che possiamo anche uscire va bene va bene no non c'eri solo c'era Luke e altre tre persone vedevo chi entrava noi c'eravamo rotto i coglioni sono sincera vabbè dai ma quello dei zombie se non si fai sempre assoluta roba sì è normale ci sentiamo su Age raga va bene vabbè si lo so lo so che c'eri tu spesso però anche gli altri c'erano da allora raga sta con la live rientra perché devo cambiare la live